Secondo giorno di lavori al porto di Fano per il mini dragaggio d'emergenza di un costo complessivo di circa 60.000 euro in cui verranno rimossi dai 2 ai 3.000 metri cubi di fanghi. Il motopontone Magnum della ditta Mentucci di Senigallia prosegue quindi le operazioni che interessano il canale d'ingresso e il bacino di evoluzione. È un primo passo importante per far fronte all'emergenza, aveva dichiarato ieri il sindaco Massimo Seri durante il primo sopralluogo. Si tratta di un provvedimento strutturale che guarda lontano e che ora garantisce un minimo di navigabilità all'interno del porto. Questi lavori permetteranno a pescatori e diportisti di evitare ulteriori insabbiamenti in entrata e in uscita. Ruolo importante nelle operazioni di dragaggio è svolto anche dalla Capitaneria di Porto al comando da pochi giorni del Tenente di Vascello Eliana di Donato che ha preso il posto di Fabrizio Marilli. Ci sono norme da rispettare per quanto riguarda l'entrata e l'uscita dal porto per pescatori o diportisti? Sì, ci sono le prescrizioni di sicurezza dettate dalla nostra ordinanza di sicurezza. Prima tra tutte massima cautela in ingresso e in uscita rispetto del limite massimo di velocità consentito. Laddove possibile ascolto sul canale 16 sul quale è collegato in maniera continuativa il comandante del motopontone. Queste informazioni più le altre di dettaglio sono state comunque rese note a tutte le cooperative di pesca, associazioni di categoria, sodalizi nautici e tutti i soggetti che in qualche modo si interfacciano con il nostro porto. Questa ordinanza dove è possibile visionarla? L'ordinanza è pubblicata sul sito web dell'ufficio circondariale marittimo di Fano ed è comunque stata trasmessa a tutte le amministrazioni locali. Ricordiamo anche dove verranno poi smaltiti questi fanghi? Questi fanghi saranno stoccati in banchina 13, quindi all'interno del porto, l'area è interdetta e poi verranno trasportati a Monteschiantello in discarica. Parliamo complessivamente di 2000 metri cubi, le operazioni dovranno terminare con molta probabilità venerdì, quindi 4 giorni con una media di 500 metri cubi al giorno.